Ciao e benvenuti in questo nuovo video di Intanto in Thailandia. Secondo una fonte delle ferrovie dello stato della Thailandia, le piattaforme di tutte le stazioni situate nella linea nord e nord-est del paese verranno sollevate per ospitare il sistema ferroviario a doppio binario. Tutte le piattaforme delle stazioni del nord e del nord-est sono attualmente alte 23 cm. Dovranno essere smontate e rimontate a 1 metro e 10 cm. La fonte ha anche aggiunto che i nuovi vagoni con i gradini compatibili con le piattaforme sopraelevate verranno consegnati entro un anno, mentre i vagoni con i gradini per le piattaforme basse verranno parzialmente dismessi o adoperati per delle stazioni di intercambio. Ha aggiunto anche che nelle stazioni verranno costruiti dei cancelli per separare le aree pubbliche dalle aree dei passeggeri. Si stima che questo upgrade delle stazioni costerà in totale 1.7 miliardi di baht. Questa notizia finisce qua, ci vediamo al prossimo video. Grazie a tutti.